Musica Musica Torna per il terzo anno consecutivo, sempre con successo crescente. E allora, un grande successo è anche la presentazione in piazza del Duomo dell'iniziativa. E' Oralimpics, l'Olimpiade degli Oratori, che si terrà dal 28 al 30 giugno nell'ex area Expo, ora denominata Mind. E così in piazza del Duomo, alla grande presentazione, non può mancare l'arcivescovo e i campioni dello sport, di moltissime discipline, esattamente come altrettante, verranno messi in campo, è proprio il caso di dirlo, per Oralimpics. Lungo il Decumano saranno di fatti allestiti circa 50 campi da gioco, quasi un chilometro e mezzo di strutture sportive complessive. Non state isolati, non chiudetevi in casa, giocate, fate il modo da confrontarvi sul campo di calcio, di basket, di pallavolo, in tutti gli sport, giocate, giocate. Ecco, per crescere insieme i ragazzi hanno bisogno dello sport, hanno bisogno di tante cose, ma certamente il gioco e lo sport organizzato sono degli strumenti veramente preziosi. L'Olimpiade degli Oratori è promossa, come sempre, dalla Fondazione degli Oratori Milanesi, dal CSI Milano, in collaborazione con il CONI Lombardia, con la Regione Lombardia e il Comune di Milano e Aera Expo. Tra testimonianze calci al pallone e allegria diffusa, parlano così e portano le loro testimonianze, Paolo Maldini, Mauro Berrutto, Adriano Galliani, Zorzi, Giuseppe Versace, Nadia ed Elena Franchini e Beppe Paresi. Durante la presentazione è guidata da Massimo Achini, presidente del CSI Milano. Il senso dello sport è questo. Io, tra l'altro, sono molto regato agli oratori perché ho iniziato lì, diciamo, la mia vera carriera, perché quando ho iniziato a giocare io nel Milan non si poteva essere iscritti prima dei dieci anni, quindi dai sei ai dieci anni ho sviluppato le mie caratteristiche proprio all'interno dell'oratorio. Quindi testimonial di eccezione ma anche con il cuore. Assolutamente sì. La vita, diciamo, sociale, avendo una famiglia molto numerosa, comprendeva naturalmente la scuola, la famiglia e l'oratorio stesso. Anche l'arcivescovo, che di ora l'Impix è il capitano e ne veste la fascia, non disdegna qualche calcio appunto al pallone. Insomma, un'occasione, come viene sottolineato da Don Stefano Guidi, direttore della Fondazione Diocesana per gli Oratori Milanesi e responsabile del servizio per l'oratorio e lo sport dell'Arcidiocesi di Milano, di amicizia civica, aperta a tutti. È una manifestazione molto ricca che esprime tutta la vitalità dei nostri oratori, la loro grande partecipazione, il loro entusiasmo in questo tempo estivo che è pieno di tante iniziative. Ed è una manifestazione che ci permette davvero di fare amicizia civica, cioè ci permette di unire tante persone sensibili ai valori dell'educazione, ai valori dello sport positivo, dello sport che aiuta a crescere. Quindi ora l'Inpix veramente si conferma essere un grande contenuto positivo di valori e di amicizia davvero educativa, di alleanza educativa per il bene dei ragazzi. Avete già delle iscrizioni? Ci si sta già muovendo in questo senso? Beh, devo dire che la proposta è entrata davvero nel vissuto, nella consapevolezza dei nostri oratori. Noi abbiamo già superato il numero delle iscrizioni dello scorso anno, abbiamo già più di 3.000 ragazzi presenti, Expo ci ospita dandoci tutti gli spazi disponibili, allargando sempre di più potremmo dire la disponibilità di spazio e noi riempiremo quella che ormai si chiama l'area Mind con tutti i ragazzi degli oratori. Dico tutti perché la giornata di sabato è una giornata aperta, non soltanto ai gruppi che partecipano alle attività sportive, ma addirittura proprio a tutti gli oratori della Diocesi. Sono invitati a venire, ci sono delle attrazioni, ci sono degli eventi anche extrasportivi che possono diventare quell'animazione a disposizione di tutti gli oratori della Diocesi. Magnifica manifestazione che giunge alla terza edizione, un modo per anche far vivere l'area che fu di Expo. Direi di sì, il terzo anno, quindi si consolida una partnership in una location particolare, la location è il luogo dove si svolta Expo, quindi che ha portato Milano a una visibilità internazionale e a maggior ragione assume un significato particolare anche sul dopo Expo, perché questo luogo è un luogo che abbiamo definito Mind, Milano Innovation District, quindi l'idea di costruire la città del futuro, una città del futuro di Milano in cui l'innovazione, quindi la presenza di ricercatori, studenti, guardano il domani e insieme possono costruire la città del futuro. Grazie mille! Grazie a tutti.